prepariamo insieme la crostata di ricotta e cioccolato con frolla all'olio facile, veloce e buonissima vi mostro due modi per realizzare una crostata perfetta prepariamo la pasta frolla quindi mettiamo in ciotola le uova, un pizzico di sale mescoliamo bene il tutto e aggiungiamo lo zucchero mescoliamo fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto aggiungiamo adesso l'olio poco alla volta e mescoliamo sempre fino a quando non sarà del tutto assorbito aggiungere l'olio poco alla volta ci permetterà di ottenere una pasta frolla friabile e non unta non aggiungete l'olio fino a quando quello precedente non sarà del tutto assorbito a questo punto unite la farina, un cucchiaio alla volta il lievito mescolate bene il tutto la scorza di limone aggiungete ancora farina e impastate bene trasferite il composto sul piano di lavoro infarinato e lavoratelo energicamente per qualche minuto fino a quando non risulterà liscio, omogeneo e non appiccicoso come risulta essere in questo momento quindi aggiungete farina a necessità la quantità di farina potrebbe variare a seconda della grandezza delle uova quindi impastate ancora fino a quando il composto non risulterà esattamente così liscio, omogeneo e non appiccicoso la pasta frolla è pronta trasferitela su un piatto in una ciotola e prepariamo il ripieno quindi ricotta, asciutta, meglio se del giorno prima uova, scorza di limone grattugiata mescolate e aggiungete lo zucchero mescolate ancora fino a quando la ricotta non risulterà liscia tritate il cioccolato fondente oppure utilizzate direttamente delle gocce di cioccolato e unite il cioccolato fondente alla crema di ricotta mescolate bene il tutto a questo punto preparata la frolla e la crema di ricotta siamo pronti per preparare la crostata prendete un pezzo di frolla lavoratela velocemente per renderla di nuovo plastica aggiungete sempre poca farina e con l'aiuto del mattarello stendete la pasta frolla a uno spessore di circa un centimetro arrotolatela sul mattarello e ricoprite la tortiera sistematela bene in modo che aderisca perfettamente ai bordi della tortiera prendete di qua e mettetela ritagliate l'eccesso di pasta frolla e sistemate ancora a questo punto bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta in questo caso siccome la ricotta è troppo light ho aggiunto alla base un po' di nutella questo passaggio potete anche evitarlo se volete una ricetta con qualche caloria in meno aggiunta la nutella aggiungiamo la ricotta in questo caso con la pasta frolla realizzata io preparerò due crostate del diametro di 24 centimetri circa quindi aggiunta la ricotta la livelliamo stendiamo un'altra parte di pasta frolla e andiamo a ricavare le classiche strisce io sto utilizzando il coltello per comodità voi potete utilizzare se volete la rotella taglia pasta sistemate le strisce e decorate la crostata così eliminate la frolla in eccesso con i rebbi della forchetta andate a rifinire i bordi nella prima crostata quella con la nutella alla base è quasi pronta adesso vi mostro come fare una crostata senza mattarello quindi prendete un pezzo di pasta frolla e con le mani andate a stenderla direttamente nella tortiera come vedete la pasta frolla si lavora facilmente e risulta veramente molto elastica in pochi secondi avrete foderato la tortiera quindi premete bene per far aderire e il gioco è fatto ecco qua bucherellate sempre la base con i rebbi di una forchetta e a questo punto andiamo direttamente di ricotta quindi aggiungiamo la ricotta e livelliamo se volete eliminate la frolla in eccesso e realizzate le strisce questa volta le andiamo a realizzare creando dei rotolini quindi niente rotella taglia pasta e niente strisce tagliate direttamente ai rotolini e sulla frolla quindi rotolini sulla crostata e realizzate il decoro che preferite rifinite i bordi ed ecco che le nostre crostate sono pronte per essere cotte quindi andranno in forno a 180 gradi statico preriscaldato per 30-35 minuti ed ecco le crostate pronte le lasciamo raffreddare per poi poterle gustare la prima è quella con la nutella la seconda è quella senza nutella tagliate vedete come risulta friabile? non è affatto dura prelevate una fetta di crostata e servitela guardate quanto è bella il taglio friabilissima grazie per avermi seguito anche in questa videoricetta alla prossima ciao grazie a tutti